È molto improbabile che qualcuno di noi possa rispondere con certezza alla domanda come sarà il nostro mondo tra mille anni? Come sarà l'anno 3000? È impossibile prevedere il futuro e perciò è difficile prevedere perfino come possa essere il nostro mondo anche nei prossimi cento anni. Tuttavia, gli scienziati e futuristi possono stesso fare delle ipotesi e seriamente considerare diverse opzioni per il futuro della nostra civiltà, anche per il prossimo millennio. Vediamo alcune di queste ipotesi insieme. Uno degli obiettivi più ambiziosi nel futuro sarà quello di estendere la vita dell'uomo. Una soluzione sarà la nanotecnologia che offrirà nanorobot medici che serviranno a purificare e proteggere il nostro corpo dai virus e batteri. Inoltre, grazie a questa miracolosa tecnologia, gli scienziati saranno in grado di curare diverse malattie, tra cui il cancro. E questo ci porta verso il prossimo punto, l'immortalità. È probabile che nel futuro l'umanità sarà in grado di raggiungere l'immortalità. Si potrà raggiungere diversi modi, attraverso la biotecnologia, la nanotecnologia o tramite la fusione delle persone con le macchine. Nel 1800 l'aspettativa di vita media era di appena 37 anni. Ora, l'aspettativa di vita media ha raggiunto ben 80 anni. Se vogliamo continuare a spingere questi limiti, tutto dipende da noi. Un futuro con energia illimitata e un ambiente pulito potrà essere raggiunto anche attraverso le meraviglie dei nanorobot avanzati. Purificherebbero l'aria e l'acqua e al tempo stesso soddisfacendo le esigenze dell'umanità come la raccolta di energia eolica e solare. Un futuro fuori dalla Terra è un po' triste, ma non è da considerare come la peggiore opzione. Il nostro pianeta potrà essere distrutto da disastri naturali o anche cosmici, o forse le risorse naturali si potrebbero esaurire. In quel caso saremo obbligati a cercare una nuova casa. Marte sembra essere un buon punto di partenza e forse, nel lontano futuro, grazie anche all'avanzamento della tecnologia, potremo vivere con gli alieni provenienti da pianeti distanti. Se non siamo abbastanza fortunati da incontrare gli alieni, i nostri futuri vicini potrebbero essere robot intelligenti creati da noi. Probabilmente nel futuro si avrà anche una vera e propria fusione tra robot e umani, e alcune parti del nostro corpo potranno diventare meccaniche e artificiali. Nonostante tutto, non ho ancora considerato il fatto che nel lontano futuro, nulla di tutto questo potrà accadere. Con una certa probabilità potremo diventare schiavi di una cività aliena o di robot ribelli, o ci potrebbe essere perfino un apoclisse zombie, e forse anche la possibilità che scoppi una guerra nucleare. Nel video tutto ciò l'ho considerato cercando di avere una visione ottimista del lontano futuro, e di avere speranze nell'umanità. Ma, chissà, qualsiasi cosa potrà capitare nei prossimi mille anni. Voi che ne dite? Come sarà per voi l'anno 3000? Voi che ne dite? Come sarà per voi l'anno 3000?